Allora, innanzitutto in questo momento qui importante della stagione, credo che parlare di cosa faccio io, interessi a pochi, credo che a tifosi, a tutto il popolo viventino, interessa che la squadra arrivi in fondo e cerchi di vincere quello che c'è da vincere, ovvero lo Scudetto, la possibilità di vincere la Champions, la possibilità di vincere la Coppa Italia. Poi dopo, come è successo l'anno scorso, quando a marzo ho incontrato il Presidente, gli ho detto che rimanevo. Punto. Quest'anno quando passerà questo momento e la società riterrà opportuno, perché non sono io che decido, ma è la società, ci metteremo, ci incontreremo e decideremo, ma non... ho un contratto fino al 2018, sto bene alla Juventus, in questo momento qui di quello che fa il sottoscritto non interessa a nessuno. Ma è giusto che sia così perché abbiamo un momento importante e va vissuto senza pensare a quello che sarà l'anno prossimo o tra due anni. Grazie.